Bodis Gym presenta promozione giovani. Innanzitutto alla Bodis Gym niente tassa di iscrizione e se hai sotto i 18 anni tre mesi di abbonamento allire 200 mila anziché 260 mila. Se hai sotto i 25 anni tre mesi di abbonamento ti costeranno 240 mila. Alla Bodis Gym una grande novità aerobica latinoamericana e step con musica latinoamericana con la fenomenale Olga. Inoltre spinning per bruciare il grasso corporeo, tonificare e migliorare la circolazione del sangue bruciando cellulite. Bodis Gym vi aspettiamo in via Leonardo Bruni 11 zona gavinana a Firenze.